questo mio pezzo ha tanti alberi troppo vicini quindi bisogna toglierne per dare luce e per pulire insomma il terreno è un lavoro faticoso e anche pericoloso bisogna stare attenti però c'è la grande soddisfazione di vedere un bel pezzo così pulito però in maniera sempre tentiamo un po' e non ero più è giù è difficile nel mio nome è che è difficile lo facciamo sempre a l'alcanzo prima faccio quando ho andato senza lavare lo faccio per carità lo faccio pericolo no se sono male eh già mi pare che ti ha mostrato eh perché se cambia persona cambia la mano eh questo che portas lì fuori a mangiare arba come il tuo frate che portava su in montagna un lato cambia ha cambiato e poi tu mi ero la sua nata da quattro cinci ore e più grande mostrava la japa è già una naviua e parava mi mostrava la japa è stata lì la sua montagna è stata lì la sua è l'ultima palauta è essa è una brisa di sol hanno andato sta avvenando perché perché si si non ma non si è quando fure le Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutto insieme. Tutto insieme. Molta pioggia, molta siccità, molta neve e niente neve. Qua un metro e mezzo. Oggi si è assestata già un pochino e giù a bove è circa un metro. Partito d'acqua con due bracere, non mi andavo due fino a la funza. Ma ho preso una e poi andavo su fino a Cariovo con due bracere e toccavo tutte e due una ramella dell'altra. E mi andavo via lì a Cariovo. Per fare la via, tiravo la bravo su... Su per la fiocca, sempre per la fiocca. Per la fiocca. Che cosa sono? Sono quelle di ruascine. Ah, ruascine proprio? E invece i cravi? I cravi sono bastardi. Eh, metici. Sì, metici. Io ho visto che mi hanno imprestato e ho preso i caprioli, le piante. Allora vengono a buttare la rete e mi hanno preso tutto. E la pista spiega mai del piolo. La tu mi hai? Eh, sì. Ora faccio i nostri vestiti. Ma, grossa o ciotta? Sì. Sì, sale sotto la bituma a tre, la grossa la bituma a davanti. Le tisarò, io finire le tisarò. In montagna. E tu non fai anche se. O per lì? La tua masù lì fuori? Sì. Le posta su. Mettete qui, eh? Che bella che l'ha. E tre. Eh, sai che dì? Oh, bella, venga a putì. Perché così è impagabile. Ma non avrà uno farà. Allora, che d'uomo! Belle maglunez. Lunez a Börs più via, sì. Sì, ne ha 60 centini. E la prima ota? La prima ota ne ha un istante. Oh, bella! Grazie.